In provincia di Treviso aveva il divieto di dimora per i suoi precedenti di furto. Si era trasferito a Vicenza convinto di poterla passare liscia e continuando a rubare indisturbato. Ma i carabinieri lo hanno arrestato. 31 anni, rumeno, pregiudicato. È condannato a sei mesi di reclusione per furto aggravato e continuato ora è ai domiciliari.